Prosegue il racconto del neocollaboratore della giustizia di Favara, Giuseppe Quaranta. Il traffico è lo spaccio degli stupefacenti. Giuseppe Quaranta è ascoltato a cadenza costante dai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Il sostituto procuratore Claudio Camilleri trascorre parecchio tempo insieme a lui e lui, Netturbino e presunto capo mafia a Favara fino al 2014, si è soffermato tra l'altro sul traffico degli stupefacenti. E le sue parole sono state. Allora il mio operato sul traffico di droga è iniziato tramite Francesco Fragapane che mi ha chiesto un appuntamento con il blando Giuseppe per incontrarlo, che gli doveva parlare per discorso di droga, per la cocaina. Io sono andato a trovare Giuseppe Blando alla bar e ho chiesto a Blando Giuseppe che Francesco Fragapane era interessato a incontrarlo, che gli doveva dire qualcosa. Abbiamo fissato l'appuntamento per l'indomani, Francesco Fragapane era ancora libero, era lui quello che gestiva il tutto. All'indomani vado con Giuseppe Blando, ci incontriamo in un appezzamento di terreno vicino Santa Elisabetta e discutono per avere un chilo di cocaina a fiducia. Fiducia sarebbe a dire che oggi Blando consegnava un chilo di cocaina a Francesco Fragapane e fra un mese doveva andare a ritirare i soldi della somma prestabilita della cocaina. Dopo qualche giorno ci siamo visti con Francesco Fragapane e ho chiesto, dico, ma cu peppi blando, come finì? Ti portà cocaina? Dici sì, ma portà un chilo? Dice un chilo. Va bene? Dice, se hai tu bisogno qualche cosa? Dice, me lo dici che te la do? Dico, vediamo un po', si può fare. Dopo un paio di giorni ci sono tornato. Dico, Francesco dammi 100 grammi di cocaina. Dico, quanto? Quanto è il prezzo? Dice, no, tu pigliatilla, capoi come che facciamo? Siamo rimasti né prezzo e nenti. Siamo rimasti soltanto che i giù ma dava. Io ero con la spazzatura, l'ho messa dentro il cassone perché c'era la spazzatura. Un fermo, una cosa. Uno mi poteva dire, sì, ma chi ne saccio? Io piglio a spazzatura. Né che saccio chi c'è già indra o non c'è già indra. Giusto una scusa per le forze dell'ordine di dirgli svuote i fusti di munnizza. Né che mi posso mettere a riscedere già indra chi c'è o chi non c'è. Era la scusa. Poi Giuseppe Quaranta ha raccontato come avrebbe spacciato i 100 grammi di cocaina. Ho chiesto a mio figlio, ci dissi, calogero, un po' ci dissi di cocaina. Dico, udici a Salvatore Montalbano che veni in campagna e ci mettiamo d'accordo. Ci siamo visti in campagna, gliel'ho fatta vedere. Ci dissi, c'è la droga. Dico, c'è sta cosa. Ci la fici vidri, picchio mi persuado. Sinceramente non so, perché non ho mai fatto uso. Non so com'è, com'è non è. Allora dico, vedi un po' di metterla in giro. E si è messo in giro, in compagnia di mio figlio. Anche che era la mia insaputa, però io ho chiamato mio figlio per contattare. Però mio figlio ha fatto pure l'operazione di spaccio insieme a Salvatore Montalbano. Alla prima quantità data, Salvatore Montalbano nel giro di una settimana mi ha portato i soldi. Il prezzo gliel'ho detto. Tu mi devi pagare 50 euro e poi fai tu quello che vuoi. 50 euro al grammo. Tu fai poi quanto tavo vini, rittava vini. Amiamo a pagare i 50 euro. Dici va bene, va bene. Nel giro di una settimana 20 grammi. E poi in un secondo tempo ho scoperto che pure mio figlio ci guadagnava qualcosa. Grazie. 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 Grazie.